Che cos'è il se? Sappiamo forse che cosa intendiamo per se? Con questa parola io intendo l'idea, la memoria, la conclusione, l'esperienza, le varie forme di intenzione a cui si dà un nome, lo sforzo cosciente per essere o per non essere, la memoria accumulata nell'inconscio, quella razziale, quella di gruppo, quella individuale, quella del clan, e tutta quanta la memoria di questo genere, sia essa proiettata all'esterno dell'azione o proiettata spiritualmente come una virtù. L'attenzione verso tutto questo è il se, in esso è inclusa la competizione, il desiderio di essere. Questo intero processo è il se e noi lo conosciamo realmente solo quando ci confrontiamo con esso e comprendiamo che è una cosa negativa. Dico negativa con intenzione perché il se divide, il se imprigiona se stesso, le sue attività, per quanto nobili, sono separative e isolanti. Tutto questo lo conosciamo. Conosciamo anche quegli straordinari momenti nei quali il se non è presente, nei quali non c'è sensazione di tensione verso qualcosa o di sforzo e questo accade quando c'è amore. A me pare che sia importante comprendere come l'esperienza rinforzi il se. Se siamo sinceri dovremmo capire questo problema dell'esperienza. Ma che cosa intendiamo per esperienza? Per tutto il tempo facciamo esperienza, riceviamo impressioni e le trasformiamo e reagiamo secondo la loro natura. siamo calcolatori, furbi e così via. C'è una costante interazione tra ciò che vediamo oggettivamente e la nostra reazione e c'è interazione tra la coscienza e i ricordi dell'inconscio. In base ai miei ricordi io reagisco a qualsiasi cosa veda, a qualsiasi cosa senta. In questo processo di reazione a ciò che vedo, a ciò che sento, a ciò che so, a ciò che credo, si colloca l'esperienza. La reazione, la risposta a qualcosa che ho visto, è l'esperienza. Quando ti dico, ti vedo, reagisco, il nome di quella reazione è esperienza. Se non do un nome a quella reazione, allora non è esperienza. guardate le vostre risposte e ciò che avviene in voi. Non c'è esperienza se non c'è un processo di nominazione che avviene nello stesso tempo. Se non vi riconosco, come posso avere l'esperienza di incontrarvi? Suona semplice e corretto. Non è un dato di fatto. Ossia, se non reagisco secondo i miei ricordi, secondo i miei condizionamenti, secondo i miei pregiudizi, come posso sapere di avere avuto un'esperienza? Quindi c'è una proiezione di vari desideri. Desidero essere protetto, avere una sicurezza interiore, oppure desidero avere un maestro, un guru, un insegnante, un Dio. Esperimento ciò che io stesso ho proiettato. Ossia, io ho proiettato un desiderio che ha assunto una forma e al quale ho dato un nome. A questo reagisco. È la mia proiezione. È il nome che le do. Quel desiderio che mi dà un'esperienza mi fa dire ho sperimentato, ho incontrato il maestro, oppure non ho incontrato il maestro. Il desiderio non è forse ciò che si chiama esperienza? Quando desidero il silenzio della mente. Che cosa succede? Che cosa avviene? Capisco l'importanza di avere una mente silenziosa, una mente quieta, per diverse ragioni. Perché lo hanno detto le Upanishad? Perché lo hanno detto le scritture religiose? Perché lo hanno detto i Santi? E occasionalmente anch'io percepisco quanto sia bello essere quieti. La mia mente chiacchiera tutto il giorno. Certe volte percepisco quanto sia bello, quanto sia piacevole godere della pace della mente. Avere una mente silenziosa. Il desiderio è di sperimentare il silenzio. Voglio avere una mente silenziosa. Così domando, come posso ottenerla? So che cosa dice questo o quel libro sulla meditazione e sulle varie forme di disciplina. Perciò, attraverso la disciplina, io cerco di sperimentare il silenzio. Il sé, l'io, ha così situato se stesso nell'esperienza del silenzio. Voglio capire che cos'è la verità. Questo è il mio desiderio, la mia sbaglia. Allora seguono le mie proiezioni di ciò che considero essere la verità. Poiché ho letto parecchio al riguardo. Ho udito molte persone parlarne. Le scritture religiose l'hanno descritta. Voglio tutto questo. Che cosa accade? Il bisogno stesso, il desiderio, si proietta. E io ne faccio esperienza poiché ho cognizione di quello stato proiettivo. Se non avessi cognizione di quello stato, non lo chiamerei verità. Lo riconosco. È lo sperimento. E quell'esperienza dà forza al sé, all'io. Non è vero? Così il sé si trincera dell'esperienza. Quando dite io so, il maestro esiste, Dio esiste o Dio non esiste, state dicendo che un particolare sistema politico è giusto e che tutti gli altri sono sbagliati. Quindi l'esperienza rinforza continuamente l'io. Quanto più vi trincerate nella vostra esperienza, tanto più il sé ne è rinforzato. Come risultato ottenete una certa forza di carattere, una forza conoscitiva, di fede, che mostrate agli altri, perché sapete che non sono brillanti quanto voi e perché avete il dono della penna o della parola e siete astuti. Poiché il sé agisce di continuo, le vostre credenze, i vostri maestri, le vostre caste, il vostro sistema economico sono tutti parte del processo di isolamento, quindi producono dissenso. Se siete del tutto seri e sinceri riguardo a ciò, dovete dissolvere completamente questo centro, anziché giustificarlo. Ecco perché dobbiamo comprendere il processo dell'esperienza. È possibile per la mente, per il sé, non fare proiezioni, non desiderare, non esperire. Vediamo che tutte le esperienze del sé sono una negazione, una distruzione, eppure le chiamiamo azioni positive. È questo che chiamiamo un modo positivo di vivere. Disfare questo processo complessivo per voi è negazione. Avete ragione? Possiamo voi e io, in quanto individui, andare alla radice di ciò e comprendere il processo complessivo del sé? Ora, che cos'è che produce la dissoluzione del sé? I religiosi e gli altri gruppi non ci hanno forse fornito l'identificazione? Identificatevi con ciò che è più vasto e il sé scomparirà. È quello che dicono, ma non c'è dubbio che l'identificazione sia ancora un processo del sé. Ciò che è più vasto è semplicemente la proiezione dell'io che sperimento e che perciò rinforza l'io. Tutte le varie forme di disciplina, fede e conoscenza rinforzano sicuramente soltanto il sé. Possiamo trovare un elemento che dissolva il sé, oppure è una domanda sbagliata. Questo è ciò che vogliamo, fondamentalmente. Vogliamo scoprire qualcosa che dissolverà l'io, non è vero? Pensiamo che ci siano vari mezzi, in particolare l'identificazione, la fede, eccetera. Ma sono tutti sullo stesso piano. L'uno non è superiore all'altro, perché sono tutti ugualmente potenti per rinforzare in sé l'io. Allora posso mai capire come funziona l'io e vedere la sua forza e la sua energia distruttiva? Qualsiasi nome io possa dargli è una forza isolante, è una forza distruttiva e voglio trovare un modo per dissolverla. Dovete farvi questa domanda. Vedo l'io funzionare continuamente e produrre sempre angoscia, paura, frustrazione, disperazione, infelicità, non soltanto per me stesso, ma per tutto ciò che è intorno a me. È mai possibile che il sé si dissolva, non parzialmente, ma completamente. Possiamo raggiungerne la radice e distruggerla. Non è forse questo l'unico modo autentico del funzionamento del sé? Non voglio essere parzialmente intelligente, ma intelligente in modo integrale. La maggior parte di noi è intelligente a livelli diversi. Voi probabilmente lo siete in un modo e io in un altro. Qualcuno tra voi è intelligente nel suo lavoro d'ufficio, qualcun altro nel suo lavoro di laboratorio e così via. Le persone sono intelligenti in modi diversi, ma a noi non siamo integralmente intelligenti. Essere integralmente intelligenti significa essere senza un sé. È possibile questo? È possibile per il sé essere completamente assente? Sapete che è possibile. Quali sono gli ingredienti e le condizioni necessarie? Qual è il fattore che produce questo? Posso scoprirlo? Come faccio? Quando faccio una domanda posso scoprirlo? Senza dubbio, sono convinto che sia possibile. Così ho già creato un'esperienza nella quale il sé si sta rinforzando. Non è vero? Comprendere il sé richiede una forte dose di intelligenza, una forte dose di presenza mentale, un'osservazione incessante, in modo da non permettergli di sfuggire. Io che sono del tutto sincero voglio dissolvere il sé. Quando dico questo, so già che è possibile dissolvere il sé. Nel momento in cui dico voglio dissolverlo, lì c'è ancora il sé con il suo esperire. E così il sé viene rinforzato. Allora, com'è possibile che il sé non esperisca più? Si può capire che lo stato della creazione non è affatto l'esperienza del sé. La creazione c'è quando il sé non è presente. Perché la creazione non è intellettuale, non è mentale, non è proiettiva, è qualcosa che va al di là dell'esperienza. Allora è mai possibile che la mente sia molto calma, che si trovi in uno stato di non cognizione, di non esperienza, in uno stato nel quale la creazione possa avere luogo. Il che significa, quando è assente il sé, non è forse questo il problema. Ogni moto della mente, positivo o negativo, è un'esperienza che in realtà rinforza l'io. È possibile che la mente non abbia cognizione di nulla. Questo può avvenire soltanto quando c'è completo silenzio, ma non quel silenzio che è un'esperienza del sé e che perciò lo rinforza. C'è un'entità separata dal sé che confidi nel sé e lo possa dissolvere? C'è un'entità spirituale che controlli il sé e possa distruggerlo, sbarazzarsene? Noi pensiamo che ci sia. La maggior parte delle persone religiose pensa che un simile elemento esista. Il materialista dice è impossibile che il sé sia distrutto. Può essere condizionato e limitato, politicamente, economicamente e socialmente. Possiamo trattenerlo con fermezza all'interno di un certo modello sociale e possiamo piegarlo. E così lo si può condurre a una vita nobile, morale, e a non interferire con nulla, ma a seguire il modello sociale e a funzionare semplicemente come una macchina. Queste cose le conosciamo. Ci sono altre persone, i cosiddetti religiosi, ma non sono davvero religiosi, anche se li chiamiamo così, che dicono un simile elemento esiste ed è fondamentale. Se riusciamo ad attingervi, esso dissolverà il sé. Esiste un simile elemento che possa dissolvere il sé? Vi prego di capire quello che stiamo facendo. Stiamo mettendo all'angolo il sé. Se vi lasciate forzare in un angolo, vedrete quello che succede. Ci piacerebbe che esistesse un elemento senza tempo, che non appartenesse al sé e che chiamiamo Dio. Ora, esiste una cosa simile che la mente possa concepire. Può esserci e può non esserci. Non è questo il punto. Ma quando la mente cerca uno stato spirituale senza tempo, che entrerà in azione per distruggere il sé, non è forse questa un'altra forma di esperienza che rinforza l'io? Quando credete, non accade forse questo? Quando credete che ci sia la verità, Dio, lo stato senza tempo, l'immortalità, non è in quell'istante che avviene il processo di rafforzamento del sé? Il sé ha proiettato quella cosa che sperimentate e che, credete, verrà a distruggerlo. Così, avendo proiettato questa idea di continuità in uno stato senza tempo come entità spirituale, ne fate esperienza. E questa esperienza non fa che rinforzare il sé. Che cosa avete ottenuto? Non avete realmente distrutto il sé, ma gli avete soltanto dato un nome differente, una qualità differente. Il sé è ancora lì, perché ne avete avuto esperienza. Perciò, la nostra azione dall'inizio alla fine è la stessa azione, solo che noi pensiamo che si stia evolvendo, stia crescendo e diventando sempre più bella. Ma, se osservate interiormente, è la stessa azione che continua, lo stesso io che funziona su differenti piani, con differenti etichette e differenti nomi. Quando vedete il processo complessivo, le astute e straordinarie invenzioni, l'intelligenza del sé, il modo in cui protegge se stesso attraverso l'identificazione, la virtù, l'esperienza, la fede, la conoscenza, quando vedete che la mente si muove in un circolo, in una gabbia fatta da lei stessa, che cosa accade? Quando ne siete consapevoli, ne avete piena cognizione, allora non siete forse straordinariamente quieti, non per obbligo, né per rimorso, né per paura, quando riconoscete che ogni moto della mente è soltanto una forma di rafforzamento del sé, quando osservate ciò e lo capite, quando ne siete completamente consapevoli del vostro agire, quando giungete a quel punto non ideologicamente, non verbalmente, non attraverso esperienze proiettate, ma quando siete realmente in quello stato, allora capite che la mente profondamente calma non ha nessun potere di creazione. Qualsiasi cosa la mente crei si trova in un circolo, nella sfera del sé, quando la mente è non creatrice, c'è creazione, che non è un processo di cui si possa avere cognizione della realtà, della verità. Non si può avere cognizione. Affinché la verità si affermi, la fede, la conoscenza, l'esperienza, la ricerca della verità, tutto questo deve finire. La persona virtuosa che è cosciente di proseguire e di perseguire la virtù non può mai scoprire la realtà. Può essere una persona molto onesta, ma questo è interamente differente dall'essere un uomo di verità, un uomo che comprende la verità. Per l'uomo di verità, la verità è già venuta alla luce. Un uomo virtuoso è un uomo giusto e un uomo giusto non può mai comprendere che cos'è la verità, poiché la virtù per lui è il rivestimento del sé, il rinforzo del sé, poiché egli persegue la virtù. Quando dice devo essere privo di avidità, lo stato di non avidità che egli sperimenta rinforza soltanto il sé. Ecco perché è così importante essere poveri, non soltanto riguardo alle cose del mondo, ma anche nella fede e nella conoscenza. Un uomo che possiede ricchezze mondane o un uomo ricco in cultura e fede non conoscerà mai null'altro che l'oscurità e sarà il centro di ogni male e infelicità. Ma se voi e io come individui riusciremo a vedere l'operare complessivo del sé, allora sapremo che cos'è l'amore. Vi assicuro che questa è la sola riforma che potrà eventualmente cambiare il mondo. L'amore non è del sé, il sé non può avere cognizione del mondo. Voi dite amo ma nel dirlo e lo sperimentarlo l'amore non c'è invece quando conoscete l'amore il sé non c'è quando c'è l'amore il sé è a sé. Grazie per aver guardato o ascoltato questo video della voce di Doeia se ti è piaciuto non dimenticare di lasciare un commento alle tue riflessioni saremo felici di sapere cosa ne pensi e se questo video ti ha dato un granello di sostegno per la tua vita attiva la campanella per essere sempre aggiornata o aggiornato grazie